A me appartiene il consiglio e la vera sapienza, io sono l'intelligenza, a me appartiene la forza. Alcuni eroi dei bambini, quando alzano la spada o altre armi, spesso gridano, per la forza che è in me. Ma nel testo di oggi anche Dio dice, a me appartiene la forza, e allora chi ha ragione? Qualcuno sta mentendo, non possono esserci due verità contemporaneamente. L'umanesimo dei nostri giorni insegna che c'è un'energia dentro ognuno di noi e ci dice, concentrati, ritrova la forza, l'energia che è dentro, concentrati. Ma quanta verità c'è in queste affermazioni? Quanta potenza e forza interiore ha un uomo? La Bibbia a sua volta insegna che la forza viene da Dio, da lui viene il consiglio e la vera saggezza. Il valore della creatura è strinseco, cioè noi abbiamo valore perché Dio ci considera di valore, non perché abbiamo un valore in noi stessi. Quindi per essere felici e realizzate nella nostra vita, è necessario andare ogni giorno alla fonte inesauribile di saggezza. Dio è il creatore e conosce meglio di chiunque altro l'opera delle sue mani. Chi meglio di lui può mostrarti la strada della prosperità? All'uomo non piace ricevere consigli, ma preferisce piuttosto dare consigli. Non accetta di essere secondo, cerca sempre di essere il primo, ed è stato così fin dall'inizio. Il serpente disse a Deva, voi sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. Che idea seducente essere come Dio! E da quel giorno l'uomo ha iniziato la corsa disperata verso la propria divinizzazione. All'uomo piace giocare a fare il Dio. Inventa piccoli idee, si sente Dio. Io, tu, ognuno di noi, ha bisogno di saggezza e di consiglio per prendere una decisione importante? Ti senti stanco, triste, ansioso e bisognoso di essere rafforzato? Vai a Gesù! Lui è sempre con le braccia aperte, aspettando il ritorno dei suoi figli. Solo in lui puoi trovare riparo, sollievo, forza di portare il peso del fardello che le circostanze ti impongono. Egli afferma, a me appartiene il consiglio e la vera sapienza. Io sono l'intelligenza, a me appartiene la forza. Buona giornata. Egli afferma, a me appartiene il consiglio e la vera sapienza. A me appartiene il consiglio e la vera sapienza.